salve a tutti buongiorno sono donatella solda sono il direttore di fem e vi do il benvenuto al webinar di oggi che è uno il primo di una serie di webinar dedicati al tema della didattica della sostenibilità ambientale e in generale dell'uso di strumenti anche online o in generale tecnologici che si possono utilizzare in questo periodo di didattica a distanza per esplorare le materie delle scienze ambientali della scienza in generale ospiti di oggi e in generale costruttori del paninsesso delle nostre attività sulle scienze ambientali sulle green science in generale sono sergio vallesi e giordano vignoli in forze nel nostro centro fem e rita baraldi della cnr che insomma presenteremo a breve questo come dicevamo è uno dei di una serie di webinar che inauguriamo oggi a cui è collegata una sfida in cosiddetta sfida didattica ossia un'attività che trovate disponibile sulle nostre pagine del in un'area dedicata del sito di future education modena che può contiene quindi delle sia delle istruzioni per utilizzare questi strumenti tecnologici disponibili online per un determinato scopo appunto che vi sarà illustrato oggi ma che se avete insomma questa necessità o questa volontà può essere anche svolta in una in un ambiente di tutoraggio specifico abbiamo allestito quindi una google classroom per per svolgere quindi una serie di attività collegate a questi ai temi che si discuteranno oggi green science o in generale city science e tutto quello che riguarda le scienze ambientali è uno dei filoni presenti nelle attività di ricerca e sviluppo del nostro centro future education modena è un nuovissimo e tech hub ci occupiamo di educazione e tecnologie tecnologie anche rivolte alla migliore diciamo metodologia migliore uso che può essere fatto per per l'educazione e studiamo quindi i processi di apprendimento che evolvono negli ambienti arricchiti dalla tecnologia oppure che si svolgono online in questo periodo di isolamento forzato abbiamo riconvertito molte delle nostre attività che erano di prototipazione con il sistema scolastico per la produzione di nuovi contenuti li abbiamo riconvertite in attività educative online sotto forma appunto di sfide ossia di processi di processi continuati anche lunghi per la costruzione di competenze questo è uno dei percorsi cosiddetti disciplinari altri riguardano per esempio la matematica o la comprensione del testo altre sfide riguardano dei processi metodologici quindi sulla valutazione a distanza sulla costruzione di lezioni efficaci dal punto di vista appunto neuroscientifico e anche su metodologie particolari che ben si prestano a questi ambienti come per esempio il flip learning o il collaborative learning troverete il nostro palinsesto online e vi invito a iscrivervi alla newsletter o a seguirci sui nostri canali social dove sono pubblicate tempestivamente tutte le informazioni lascio la parola adesso a sergio giordano e rita vi auguro buon lavoro a presto e alla prossima giordano vuoi iniziare un attimo solo perché avevamo la condivisione dello schermo dall'host che è sergio intanto mi presento sono giordano vignoli sono educatore stem presso fem e sono un naturalista e la motivazione per cui abbiamo voluto diciamo sviluppare questa questa challenge è che le scienze ambientali sono molto complesse e quindi abbiamo voluto dare uno sbocco a queste scienze ambientali a una strumentazione a chi volesse cimentarsi in questo processo molto complesso perché la strumentazione è la base oltre a un framework come vedremo processuale fondamentale per la progettazione di un'attività che abbia dei risvolti reali vediamo che adesso il mio collega Sergio sta iniziando a condividere lo schermo quindi abbiamo probabilmente risolto il problema tecnico Sergio ti posso lasciare la parola? la didattica a distanza è un po' meravigliosa lo sappiamo tutti e ogni giorno siamo sempre più convinti di questo siamo certi che ci accompagna la tecnologia anche oggi grazie Sergio Sergio ci sei? si sto cercando ci sono? eccoci mi sentite? si 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 vai Sergio non riusciva a entrare il microfono in grazie grazie donatella e grazie ai partecipanti come è stato detto questa attività questa presentazione di oggi si focalizza su trasportamenti approcci necessari per affrontare una didattica della sostenibilità di tali e molto più complessità degli aspetti ambientali e per questo andiamo a prendere in considerazione questi aspetti in particolare per prendere tutta quella rete che è il mondo naturale e il nostro centro i mondi che sono sempre più interconnessi presuppongono una comprensione e una ricerca fatta proprio di domande e risposte sempre più implicata come proprio una rete e questo è alla base della didattica di comporre la complessità della didattica ambientale poi c'è un aspetto importante che è quello di avere attività quindi un circuito di attività connessi in modo che ci sia sempre un aumento di complessità e anche in maniera circolare per poi rigenerare anche degli stimoli in fase iniziale poi l'approccio della rilevanza ambientale ovviamente è sempre importante da tenere presente in modo che si tiene sempre un piede a terra sulla realtà quotidiana quello che accade davanti alla nostra finestra non necessariamente i problemi globali devono essere visti come tali ma possono essere scomposti proprio in rilevanze locali e poi l'importanza di facilitare attività pratiche contestualizzate come in tutte le didattiche ma ancor più in questa ambientale che ha degli aspetti pratici decisamente importanti fini proprio a se stessa cioè per avere un impatto c'è bisogno proprio di andare sulla pratica la sostanza ambientale fatta solo di teoria è fine a se stessa non ha proprio non ha quell'obiettivo che si prefigge poi è importante la scelta di tutti gli strumenti è proprio per questo che oggi con questo webinar cerchiamo della cramica di quali sono gli strumenti che continuiamo a passare la parola a Giordano che vi spiegherà alcuni aspetti riguardo le discipline allora prendo la parola scusate ancora la connessione chiedo a Sergio di condividere lo schermo perché è saltato in questo momento intanto Giordano Sergio mi senti abbiamo un problema di condivisione dello schermo Sergio mi collego a quello che dice che diceva il mio collega Giordano si posso condivido io le slide Giordano faccio io perfetto grazie mille gentilissima si intanto possiamo iniziare forse a parlare della sfida e insomma degli argomenti allora appena vai io purtroppo non riesco a vedere la condivisione mi spiace eccola qua perfetto grazie mille Donatella che ci ha salvati da questo impasse allora intanto come dicevamo se possiamo passare alla slide numero quattro allora intanto dobbiamo sapere che ci sono diversi gruppi disciplinari che sono fondamentali per affrontare le tematiche e abbiamo dovuto evidenziare abbiamo voluto evidenziare quelle che sono quelle le strategie le direttive strategiche cioè l'ecologia la geografia ambientale la socio-economia all'interno delle nostre challenge ma anche quelle che sono le direttrici disciplinari come la metodologia STEM o la science education fino ad arrivare alle direttrici trasversali come ad esempio la tecnologia dell'informazione la data science e la visualizzazione e comunicazione passando quindi alla slide numero 5 abbiamo anche voluto supportare quello che è la progettazione delle attività non solo nelle nostre challenge ma anche all'interno di quelli che sono delle attività che potrebbero essere svolte dai docenti nelle classi extra nostre challenge intanto volevamo condividere quelle che sono le necessità della progettazione delle attività ovvero che siano scientificamente valide che devono avere un'elevata interdisciplinarità almeno secondo la nostra esperienza perché questo rende molto più ampio la possibilità di creare dei collegamenti e un network di questi collegamenti ottenere un impatto sociale dimostrabile proprio per questo abbiamo deciso poi anche di sviluppare delle challenge che siano delle challenge vere pratiche e non solo degli esercizi didattici generare un coinvolgimento e quindi un engagement perché più uno si sente coinvolto e più ha interesse a portare avanti un progetto o un processo didattico o un progetto o un processo lavorativo che sia ed essere funzionale al sistema didattico nazionale quindi devono avere una validazione all'interno di quelle che sono le competenze negli indicazioni nazionali in modo che non siano avulse da tutto ciò che è il curricolo scolastico ed essere applicabili anche esternamente alle scienze applicate quindi quest'idea del fatto che la scienza sia per istituti che sviluppano scienze applicate abbiamo cercato di sfatarla questa poiché l'inter grande interdisciplinarità permette di a tutte a tutti i curricola di utilizzare una sperimentazione e una progettazione di questo tipo passando alla slide seguente abbiamo anche evidenziato quelle che sono le competenze che gli strumenti digitali e informatici sulla gereferenziazione e la mappabilità quindi della geografia e della matematica ambientale ci portano a sviluppare e a poter valutare le competenze matematiche le competenze di geografia le competenze di sciente le competenze linguistiche soprattutto perché la maggior parte dei materiali sono scritti in inglese o non sono neanche scritti in inglese ma utilizzano altre sono scritti in altre lingue e quindi c'è tutta una possibilità di andare a creare un'attività in lingua o comunque nelle attività non in lingua bisogna avere una buona competenza di una seconda lingua per poter analizzare i materiali le competenze chiave e le competenze digitali che poi affronteremo anche in seguito lascio la parola a Sergio se in questo momento ci sei Sergio? Sì benissimo grazie Giordano ti ricompito lo schermo e a questo punto entriamo nella dimensione più specifica di queste discipline che vogliamo presentarvi ma anche strumenti soprattutto per contestualizzare prendiamo questo questo aspetto importantissimo per la vita in considerazione il problema delle foreste è il fatto che ci sia un tasso di deforestazione crescente in tutto il mondo ma soprattutto ovviamente nelle zone che sappiamo nell'America del Sud e io proporrei di ritornare alla mia condivisione di schermo nelle aree perdona Sergio e chiedo alla regia di ripristinare insomma la possibilità per me di di condividere lo schermo in modo tale da consumare meno banda possibile per voi vediamo se oggi ci accompagna la tecnologia ecco qui vi faccio da di oggi ok nessun problema quindi sì diciamo questo aspetto fondamentale per quanto riguarda la vita è un po' il focus di oggi per entrare nel vivo con degli esempi di strumenti passiamo quindi alla slide successiva e vediamo che questi aspetti riguardano intanto di livello di complessità se vogliamo capire i collegamenti di cui parliamo prima che si sono fra le piante in particolare gli alberi e anche il mondo antropogenico ci sono ovviamente i nostri aspetti che ci interessano cioè la residenza ai cambiamenti climatici e agli sconvolgimenti meteorologici la riduzione dei fenomeni di forestazione desertificazione la prevenzione la gestione dei fenomeni quali incendi siccità lagamenti e la salute e il benessere nel contesto urbano sono tutte cose ovviamente interesse fondamentale e cerchiamo di capire come questi strumenti che vi proponiamo possono aiutarci per entrare nel vivo di una didattica riguardo queste problematiche passiamo alla slide successiva quindi e vediamo questa lista di strumenti passo la parola a Giordano che vi spiega un primo esempio di strumenti grazie mille Sergio allora intanto come dicevamo prima la parte della pianificazione della strumentazione di un processo è fondamentale quindi abbiamo deciso di inserire all'interno delle nostre challenge anche gli strumenti di pianificazione poiché permettono di ridurre quelli che sono i vari problemi in itinere sviluppando meglio il processo all'inizio tra gli strumenti di pianificazione di framework delle attività che permettono quindi di promulgare collegamenti e ipotesi scientifiche abbiamo inserito questo esempio CMAP tools che noi abbiamo utilizzato anche per andare a creare quelle che sono degli esempi di framework che troverete sia nelle slide ma troverete anche nella nostra classica di Google di Google Classroom e soprattutto abbiamo verificato che lo spirito di iniziative di imprenditorialità come competenze chiave viene altamente supportato dalla possibilità di avere un tool molto semplice quindi uno strumento molto semplice per la creazione di mappe mentali mappe concettuali o diagrammi di flusso e che quindi poi se è un tool digitale ci permette anche di migliorare quelle che sono e andare a valutare quelle che sono le competenze digitali all'interno del slide sì grazie uno dei temi principali quindi è la georeferenziazione che ci permette di andare a creare una stratificazione di informazioni nelle dimensioni spazio e tempo quindi questo è un grandissimo vantaggio dato dalla georeferenziazione in generale quindi ci permette di fare dei collegamenti che siano se ipotesi scientifiche le condivisioni dei risultati come vedrete nelle nostre challenge o siano semplicemente delle analisi temporali di dati questo è un grandissimo vantaggio perché rende quadridimensionale un processo inoltre lo sviluppo delle competenze matematiche di scienze di tecnologie quelle definite fondational anche nelle 21st century skill sono assicurate poiché la parte di georeferenziazione viene creata tramite una mappatura e quindi dobbiamo andare a conoscere oltre che una base di programmazione anche se non con tutti gli strumenti almeno una base di matematica che ci permetta di leggere una carta geografica e di renderla interattiva spirito iniziativa imprenditorialità anche questo è il collegamento e imparare ad imparare come altra competenza chiave altra slide primo strumento che abbiamo deciso di condividere con voi è uno strumento open e free è un progetto è un progetto collaborativo di rete e quindi è un po' particolare si chiama open street maps in particolare abbiamo deciso di condividere con voi umap che è un progetto all'interno del progetto che cosa vuol dire open street map è un programma di georeferenziazione di mappatura globale degli utenti del pianeta il vantaggio di utilizzare umap è dato dal fatto che umap vi permette di creare i vostri layer quindi le vostre stratificazioni i vostri dati i vostri poligoni e le vostre mappe senza andare a sovrascrivere i dati degli altri utenti e che quindi permette di inserire dei dati senza andare a danneggiare la mappatura totale quindi questo è il primo strumento gli esempi che trovate all'interno il primo è un esempio di raccolta e condivisione dei dati ambientali con un hardware low cost si chiama Lufthaden è partito in Germania ne vedete una piccola diciamo immagine estrapolata nella presentazione tutte le pagine le hot word sono cliccabili se avete anche una sitografia alla fine della presentazione quindi potrete esplorarlo per conto vostro quindi non solo georeferenziazione ma anche misurazione di dati con strumenti hardware low cost poi il secondo esempio invece riguarda non solo tutto il mondo una tab indietro grazie grazie mille il progetto Italia va a fuoco è un progetto di georeferenziazione collegato alle news sugli incendi del 2019 quindi è sempre un progetto fatto in collaborazione della rete e a ogni simbolo di incendio corrisponde un video una notizia di un giornale quindi che siano forestali incendi forestali o incendi all'interno di città potrete andare a interagire e collaborare prossima tab grazie mille lo strumento google earth lo conosciamo praticamente tutti intanto ha un grande vantaggio anche questo è open e free se disponete di una suite google scriversi ed è uno strumento che è integrato nella suite quindi permette di utilizzare anche tutti gli altri strumenti come google maps il nostro google classroom che utilizziamo per le sfide anche qui abbiamo una sovrapposizione di dati quindi si possono andare a creare dei layer quindi degli strati e magari non tutti sanno che google earth oltre ad avere la visualizzazione ha anche uno strumento che permette di andare a creare un po' come i umap in precedenza delle diciamo delle strade dei percorsi e dei transetti all'interno dei quali si può evidenziare un'interattività quindi creare poligoni e tutto il resto il primo esempio è il progetto di monitoraggio dell'ambiente naturale UNEP quindi è un progetto ne vedete un piccolo screenshot che permette di andare a misurare i dati ambientali su google earth e che permette di andare a creare una sovrapposizione negli anni e quindi a vedere come una certa zona era prima durante la misurazione e nel nostro futuro quindi va a creare una memoria digitale delle diverse zone del pianeta il secondo esempio invece ne vedete una piccola immaginetta è il progetto global forest watch in questo caso si appoggia su google earth anche questo è un programma di georeferenziazione ed è un progetto all'interno del quale possiamo andare a vedere tutta la superficie ricoperta dalle piante ad alto fusto del pianeta quindi con rimbostimento con disboscamento e anche layer su il passato e il presente delle foreste lascio quindi la parola a Sergio per l'altro strumento ArcGIS Online in questo gruppo di strumenti parleremo di strumenti di georeferenziazione più complessi ovviamente il più importante e famoso si chiama ArcGIS Online ed è uno strumento che permette di sovrapporre i dati su più livelli e di fare dei calcoli anche delle soluzioni grafiche molto complesse è un strumento decisamente professionale ed è gratuito per gli istituti scolastici ed è quello che viene utilizzato da quasi tutte le istituzioni anche soprattutto in questo periodo ad esempio di corona di emergenza ma anche in situazioni di altri tipi di emergenze come quelle eventi calamitosi di grande portata è lo strumento per eccellenza per far vedere l'evoluzione della difficoltà anche in questo caso del contagio eccetera l'avete visto tutti in questi giorni i grafici sul coronavirus sono realizzati in questo tipo di strumento noi vedremo due esempi qui una piccola immagine un esempio di mappatura globale della copertura arborea è una mappa che permette di vedere i vari tipologie ovviamente di copertura quindi si può passare da un layer a un altro da uno strato a un altro l'informazione e poi aggiungerne quanti altri se ne vogliono per aumentare appunto la complessità ma anche quelle famose connessioni di cui si parlava quella rete di connessione di cui si parlava all'inizio FEM ha un portale con lo strumento Argis che vedete nella piccola immagine in basso all'interno nel quale c'è caricata sia questa prima dimostrazione di strumenti layers diciamo riguardanti le coperture arboree del pianeta ma anche lo spazio che verrà utilizzato poi per una delle challenges che vi proponiamo e di cui parleremo a breve passiamo alla prossima slide e una ditemi se ce l'è perché anche la mia rete fa le vizie oggi e particolarmente sarà l'Emilia Romagna che va così ha cambiato slide sì perfetto siamo qui ok ovviamente c'è un'altra categoria di strumenti utili alla didattica della sostenibilità ambientale ovviamente sul focus degli alberi che è quello della meteorologia non si può parlare di alberi ovviamente senza capire anche come esolve il clima è uno degli elementi fondamentali ovviamente per funzionare qualsiasi specie vegetale ha bisogno di fattori vitali come ad esempio la pioggia la temperatura e questi altri indicatori quindi per visualizzare questi dati ovviamente si esula dagli strumenti di georeferenzazione di cui parlavamo fino a un attimo fa cioè quelli di ArcGIS o anche Google Maps eccetera si entra in una suite di strumenti specialistici dove il numero di dimensioni sale perché salgono anche le variabili quindi non è solo spazio e tempo ma ci possono essere tanti altri variabili che entrano in gioco e ad esempio vediamo il portale classico Arpae per diciamo utenti civili di uso comune fa vedere la temperatura così come la immaginiamo ogni punto è una stazione c'è un numerino a forse arco mentre invece lo strumento avanzato per la meteorologia che utilizzano ovviamente i professionisti è sempre uno strumento di Arpae e qui è regionale ovviamente si occupa di queste informazioni ma è uno strumento che permette di visualizzare una media pesata interattiva di tutte le stazioni a livello nazionale quindi zoomando dentro l'immagine ovviamente si entra si va a raffinare sempre di più la media di informazioni aumentando anche la complessità dei parametri ad esempio alcune stazioni che Arpae ha inserito dentro questo portale sono in movimento sono stazioni meteo su delle navi e quindi c'è anche la componente spazio mentre invece spesso sui sistemi classici georeferenzazione non abbiamo questa dimensione di spostamento delle stazioni misurazioni invece in questa dimensione esiste anche questa possibilità ovviamente le competenze che entrano in gioco sono diverse decisamente la matematica molte di queste applicazioni sono fatte con R Python poi anche e digitali ovviamente informatiche scienze tecnologie e sono applicazioni molto utili per le attività di citizen science di cui parleremo a breve passiamo alla prossima slide io ho passato la prossima slide vediamo se la streaming ci accompagna sono la 16 ok si gli strumenti per le valutazioni sorge economiche è un'altra categoria ovviamente fondamentale per chi si occupa di dinastica per la sostenibilità per il ambientale perché ovviamente sono collegamenti intrinsechi che esistono tra i problematiche ambientali che spesso sono di beni non di mercato e i sondaggi che vanno fatti per capire appunto come i cittadini comunque gli utenti finali percepiscono queste informazioni o comunque questi investimenti anche che si propongono per migliorare lo status quo vediamo sulla destra due esempi un esempio classico quello del survey monkeys quindi i classici sondaggi diciamo abbastanza semplici dove si vanno a chiedere appunto preferenze in questo caso sulla l'iniziazione di un'area verde rispetto invece a delle cose molto più complesse sotto ci sono strumenti di calcolo delle mappe sviluppate del Joint Research Council che è una branca della Commissione Europea che si occupa ad Ispra sul lago maggiore di diversi aspetti in particolare proprio l'analisi socio-economica degli aspetti ambientali si chiamano servizi ecosistemici in questo caso cioè che cosa sono? Sono dei benefici che la natura ci fornisce che vengono calcolati come si fa proprio a livello di accounting cioè di business in un'azienda anche in questo caso si cerca di fare una rendicontazione di quello che la natura apporta in termini di valore economico anche se non è un bene di mercato alla società con queste mappe che poi possono essere strati ovviamente queste mappe possono essere importate nella suite di ceoreferenzazione di cui parlavamo prima si può vedere come le problematiche ambientali vanno a interporsi a sovrapporsi agli aspetti socio-economici quindi ai drivers e agli equilibri tra la domanda e offerta e anche consente di fare una cosa importantissima per l'impatto sociale delle attività ambientali cioè il monitoraggio continuo del rapporto caso-effetto che c'è appunto tra l'investimento ambientale e l'effetto sugli utenti finali sono ovviamente competenze di matematica ma anche decisamente di economia passiamo all'ultimo gruppo diciamo di strumenti l'ultima categoria che sono gli strumenti per la citizen science questi strumenti come sicuramente avrete avuto modo di conoscere nell'attività alle quali avete partecipato sono strumenti che spesso comprendono l'integrazione di diversi strumenti digitali ci sono le app ci sono applicazioni su desktop ci sono magari appunto sistemi di georeferenzazione per far vedere poi i risultati e spesso si accomunano con l'utilizzo di strumenti low cost per l'osservazione e la misurazione di RETAR PAE stessa di cui parlavo prima si avvale molto di questo tipo di strumenti low cost che vanno da strumenti per la misurazione dell'inquinamento di cui aveva accennato prima a misurazioni effettive vere e proprie di meteorologia e poi ovviamente permettono una grande visualizzazione una grande comunicazione per un impatto sociale perché si raggiunge ovviamente grandi numeri è necessario una forza spirito nell'iniziativa di prendere la realtà perché ognuno ogni cittadino che aderisce è responsabile delle proprie iniziative e anche delle competenze digitali questo esempio sulla destra vediamo un esempio lanciato dalla NASA nel settembre lo scorso anno è stato lanciato un satellite specificatamente per fare un nuovo tipo di rilevamenti diciamo che mai fatti prima con questa definizione cioè l'obiettivo della NASA è quello di misurare l'altezza degli alberi con una precisione superiore a quella appunto raggiunta in precedenza e questa attività di Citizen Science in particolare con un'app attualmente è in stand by diciamo per qualche settimana per via del coronavirus ma è attiva se volete cliccare poi sul link fornito vi permette di scaricare un'app e utilizzare l'app per misurare direttamente da casa vostra o comunque dal vostro cortile o giardino se vedete un albero l'altezza di quell'albero ovviamente se più persone misurano quell'albero non è un problema ma anche ancora meglio si ottiene una calibrazione ancora più raffinata poi nel frattempo con il satellite la NASA sa esattamente il punto in cui voi avete misurato quell'albero e riesce a fare un check di quello che vedono loro dal satellite rispetto a quello che avete misurato voi questo tipo di applicazioni che è un esempio delle attività Citizen Science che al FEM intendiamo supportare e proporvi è un'applicazione che in realtà trova gli utilizzi anche molto vicini alla realtà della protezione magari delle aree verdi dei parchi di tutto quello che ci sta a cuore nella vita urbana ed è con questo che mi collego alla nuova sezione di cui andiamo a parlare adesso quindi passiamo a una nuova slide e andiamo a vedere quali sono i modelli per stimare appunto gli effetti di mitigazione delle piante mitigazione ambientale mitigazione del clima dell'inquinamento e tutti i benefici che ci danno gli alberi e le piante attraverso misuri strumenti per la misurazione di retta per far questo ci colleghiamo con Rita Baraldi del CNR del centro di pio economia di Bologna che ci spiegherà una serie di effetti riguardanti bene grazie spero mi sentiate bene ok naturalmente viene mi collego tantissimo all'introduzione che ha fatto Sergio perché tutto quello che lui ha detto vedremo una parte di quello che ha detto lo metteremo in pratica con questi esempi che vi farò abbiamo sentito parlare dei servizi ecosistemici in particolare ve ne parlerò di due dei servizi ecosistemici delle piante che sono il sequestro dell'anidride carbonica e la diciamo cattura la filtrazione dell'inquinante sia gassose che polvere quando parlo di gas parlo di ozono per esempio che è un gas dannoso e quando parlo parlo di polvere capite tutti che parlo delle PM10 e PM2 e 5 mai come oggi in questo momento di emergenza per questa pandemia questi servizi ecosistemici sono importanti perché nel mondo scientifico si sta appunto discutendo per capire come mai proprio nelle zone della penura padana dove noi viviamo quindi in Romagna l'incidenza del covid è stato maggiore rispetto alle altre zone guarda caso la penura padana è la più inquinata la zona più inquinata d'Europa quindi si sta cercando se c'è qualche motivazione e immagino di sì perché questi i danni da polvere i danni da gas dannosi sono nell'apparato cardiorespiratore circolatorio e respiratorio degli esseri umani laddove appunto si va a colpire anche il covid comunque vedremo poi la scienza cosa ci dirà io oggi vi parlerò di come possiamo fare a misurare questi servizi ecosistemici generalmente lo facciamo utilizzando dei modelli e degli algoritmi uno dei modelli che noi utilizziamo è Ice Tree Eco che è un modello che è stato sviluppato dall'OSDA degli Stati Uniti e a New York precisamente ed è stato quindi sviluppato per ambienti climatici e per gli alberi presenti negli Stati Uniti ma oggi viene utilizzato anche in Europa grazie per esempio anche al continuo contatto e collaborazione che abbiamo anche noi per cui forniamo dei dati nuovi e loro vanno a implementare il loro modello cosa serve a questo modello per fare questi calcoli queste stime serve innanzitutto a sapere dei dati di campo e quindi sono le dimensioni della piante sapere che specie è e sapere i dati della location dove noi andiamo a lavorare se vogliamo lavorare su Modena su Bologna dovremmo dirgli che lavoriamo su Modena a Bologna perché in questo caso se già esistono dei database di quelle zone si utilizza il software che utilizza quelli altrimenti noi dobbiamo fornirli i database riguardano i dati micrometeorologici come diceva prima Sergio l'attività delle piante è strettamente correlata alla temperatura oltre che alla radiazione e i dati dei pollutants quindi degli inquinanti quindi come ho detto prima ozono e le PM10 naturalmente tutto questo serve per definire i dati fisiologici che sottengono la capacità ecosistemica delle piante che sono fotosintesi con l'ustanza stomatica che vediamo nella prossima diapositiva quindi noi che cosa dobbiamo fare questo naturalmente è un software che è free si può scaricare da internet i dati che noi dobbiamo dare gli input che noi dobbiamo dare sono indispensabile il diametro del tronco che si misura come vedete dalla figura altezza si chiama altezza del petto quindi circa un metro e dieci un metro e venti si misura si misura scusamente si misura e se possiamo anche l'altezza totale del fusto quindi questo è importante anche per quella app che vi ha prima mostrato Sergio dando questi dati poi il software ci darà la copertura della chioma e in particolare l'area fogliare perché voi capite che ciò che è attivo e sono le foglie in questo processo e poi gli dovremo dare la location come ho detto prima e sulla base di questi dati utilizzando algoritmi e un database fisiologico poi avremo gli output vediamo nella successiva diapositiva ma quali sono questi database fisiologici che usa questo software sono dei dati che sono stati effettuati praticamente con una strumentazione e che vanno a implementare quindi i database di tutte le specie che sono presenti nelle zone in cui andiamo a studiare questo ad esempio è uno strumento che noi usiamo per misurare gli scambi gassosi delle foglie e quindi la CO2 che viene assorbita e rilasciata nell'atmosfera mettendo all'interno di questa pinza di questa cuvette la foglia come vedete sulla sinistra è una foglia grande mentre sulla destra vedete che ci sono aghi formi e all'interno di questa pinza esiste un analizzatore di gas infrarosso che misura la concentrazione della CO2 noi possiamo lavorare o in condizioni ambientali come vedete nella cubetta destra perché è trasparente quindi con la radiazione e la temperatura ambientali o come nella cubetta al centro invece possiamo utilizzare una resistione artificiale con dei led e addirittura anche inserire una concentrazione nota che è l'idride carbonica è una temperatura standard per lavorare in condizioni poi confrontabili con tutto il resto del mondo passiamo alla successiva questo è uno strumento che è abbastanza costoso quindi è molto prezioso per noi fisiologi vedete questa è la schermata che noi poi vediamo e questi sono già i risultati che ci dà questo lycor e oltre alla concentrazione dell'anidride carbonica alla quale lavoriamo ci dà questo foto che è 11.1 che sono i micromoli di CO2 assorbiti per centimetro quadrato di foglia e poi ci dà anche la costanza stomatica che vuol dire quanto è aperto chiuso e che quanto veloce è il flusso di anidride carbonica dalle aperture stomatiche delle foglie passiamo alla successiva ecco questo esula da i3 queste informazioni non vengono usate da i3 ma mi piace spiegarle perché è sempre un'altra capacità che possiamo utilizzare con questa strumentazione dell'aico perché come vedete le foglie la foglia le piante non si muovono ovviamente quindi se c'è molta radiazione solare non possono andare all'ombra come facciamo noi dagli alberi ma assorbono la luce per poi utilizzarla soprattutto per la fotochimica e quindi per la fotosintesi ma quando è in eccesso la dissipano per proteggere proprio la propria struttura fotosintetica o come calore oppure come fluorescenza cioè riemettono le bande la radiazione che assorbono in bande diverse e di solito sono più lunghe vedete infatti a destra come appunto la colorfilla quella beuta è verde perché questo è il colore che noi percepiamo con gli occhi ma quando viene stimolata la fluorescenza in effetti assume questo colore che è rosso lontano quindi qui è un rosso e questo è molto importante perché con questa cuvetta noi possiamo misurare contemporaneamente la fotosintesi e contemporaneamente la fluorescenza come vedete dalla figura sotto si vede come questa foglia in condizioni normali assorbe energia solare la utilizza per la fotosintesi e la utilizza per la fluorescenza se è soggetta a uno stress a cui di solito con cambiamenti climatici le piante sono soggette ecco che diminuisce la quantità di energia che viene utilizzata per la fotosintesi e aumenta quella per la dissipazione per la fluorescenza e quindi misurando la fluorescenza sappiamo se la pianta è in stress a destra quella bella immagine colorata fa vedere come appunto dando delle lunghezze questa è stata misurata al buio in una fineta dando lunghezze donne diverse blu verde rossa le piante ci rispondono con una fluorescenza in queste lunghezze donne quindi è abbastanza così era bella da vedere passiamo alla successiva ecco e questo è molto importante perché ritorno al satellite di cui abbiamo parlato prima nel 2022 la agenzia spaziale europea lancerà a questo satellite FLEX che è Flouracious Explorer che esplorerà quindi la fluorescenza quindi sarà in grado di mappare lo stato della vegetazione in vaste aree della terra cioè vedere attraverso la misurazione della florescenza quant'è l'attività fotosintetica e se le piante sono in buono stato in buono stato fisiologico e questo è importantissimo perché l'agricoltore invece di aspettare di vedere le foglie ingiallire e appassire sa già fin da subito che come sarà come deve intervenire detente dando acqua con citi eccetera passiamo alla successiva ho fatto quindi una piccola trasversione ma ritorno quindi al nostro i3 al nostro software modello abbiamo detto che ci dà anche la quantità di particolato o sostanze gassose nocive che riescono a filtrare le piante ovviamente si basa sempre sulla conduttanza stomatica perché così come viene assorbita l'anidride carbonica vengono assorbiti anche altri gas o le PM2-5 che sono molto piccole ma si basa anche sulle caratteristiche fogliari sulle strutture che sono presenti sulle foglie che possono intercettare e trattenere le polveri come facciamo noi per dare questi dati con questo microscopio un microscopio molto sofisticato è un microscopio elettronico a scansione quindi a differenza dei normali microscopi sfrutta un fascio di elettroni per avere proprio le informazioni e le immagini delle superfici fogliari e si chiama environmental quindi ambientale perché è stupendo perché non occorre più includere le foglie in particolari strutture che sono poi delle lame d'oro ma si può andare con la foglia togliere la foglia andare direttamente dentro e quindi così sul fresco riesce a darci queste figure come vedete qui nella parte superiore c'è un cerro vedete la superficie fogliare come ha queste peli fogliari o tricomi pochi rispetto a un tiglio che è nella parte sotto che è piena la superficie fogliare di peli fogliari quindi evidentemente tratterrà anche più polveri sottili e a sinistra vi ho messo perché è spettacolare la foglia di un olivo come vedete quelle si chiamano peli stellati perché ha proprio questa formazione meravigliosa quei puntinini invece che vedete nel cerro sulla superficie fogliare sono i famosi stomi di apertura stomatica passiamo alla successiva questo è un altro esempio questo è l'arbero di Giuda sulla sinistra cioè Celsi di Quastrum vedete che è uno stoma ben visibile aperto vedete che intorno ci sono le cere le cere attaccano le polveri sottili anche dei gas bernosi il liriodendro che al centro invece è piena la superficie non è liscia ma è piena di escrescenze che intrappolano anche quelle le PM e poi vi ho messo la salvia quella che noi comunemente usiamo in cucina anche questa piena di peli che può trattenere quindi le polveri per questo che occorre sempre ben lavare le foglie prima di passare in cucina la successiva vediamo quindi l'output bene abbiamo inserito tutti questi dati nel nostro software che cosa ci dà sulla sinistra vedete che ci dà una serie di informazioni che sono le specie che noi abbiamo inserito i diametri che noi abbiamo inserito da cui lui poi calcola la superficie fogliare che è fondamentale dopodiché sulla destra invece in funzione dei diametri ci dà anche quanta anezidride carbonica viene sequestrata cioè attraverso la fotosintesi all'anno quanta anezidride carbonica viene immagazzinata cioè quella che viene sequestrata annualmente viene immagazzinata di carboidrati all'interno dei tronchi e dei rami o delle foglie e quindi quella è sulla complessiva età della pianta e poi ci dà le PM10 o le PM25 o l'ozono che viene assorbito e filtrato per pianta all'anno passiamo alla successiva perché è importante sono importanti le dimensioni perché come vedete le piante non è che assorbano le carbonica con una retta questo è per esempio un cerro scusate una farnia qualche roburo vedete che questa retta prima aumenta dopodichè a una certa dimensione la pianta si arriva in plateau si ferma e la fotosintesi la capacità fotosintese rimane uguale così anche come quella di filtrazione anche perché poi le piante a un ciclo biologico nascono crescono e muoiono la successiva è l'ultima e volevo presentarvi anche come si applicano questi studi quello che noi facciamo quando noi vogliamo andare a stimare l'impatto ambientale di un parco di una città di un giardino di un viale alberato applichiamo i3 e attraverso questa applicazione questo è un esempio di un parco di un bosco che c'è qui in provincia di Modena dove di 40 ettari circa con circa 1500 piante e vedete che noi avendo tutti questi output i3 riusciamo a quantificare la CO2 sequestrata che sono circa 200 tonnellate all'anno soprattutto la farnia come vedete il verde qua e la quantità di PM10 assorbita soprattutto la farnia anche in questo caso evidentemente era la pianta più grande e in questo caso sono 190 circa chili all'anno poi possiamo fare di più e questo serve molto per i nostri amministratori cioè possiamo dire quanto questo bosco riesce a compensare rispetto a una autovettura media cilindrata che percorre 10.000 km all'anno io ne percorro 20.000 km all'anno per andare a lavorare come vedete ad esempio la CO2 magazzinata che sono più di 3.000 tonnellate di questo bosco riesce a compensare più di 2.000 auto e le PM10 invece questo bosco assorbe 190 kg all'anno di PM10 che riescono a compensare quasi 4.000 auto che fanno 10.000 km all'anno quindi come vedete dal modello siamo passati all'applicazione pratica e a dare indicazioni per chi dovrà prendere poi le decisioni sul futuro della città ci sono ovviamente domande o precisazioni mi spiace di essere stata anche abbastanza veloce per rimanere nei picchi ma naturalmente sono a disposizione grazie mille davvero è estremamente interessante soprattutto il collegamento con la utilità per chi prende poi le decisioni pubbliche questa correlazione che esiste tra l'esistenza di una certa una certa area verde l'equilibrio che questa può portare in un sistema complesso come quello appunto della pianificazione urbana o di aree grandi come quelle regionali è il centro immaginiamo di questo tipo di attività immagino che Sergio e Giordano avranno anche modo di approfondire che devono dalla platea se gli strumenti che voi avete a disposizione alla CNR o che in generale sono stati illustrati in questa sua presentazione fossero precondizione per poter utilizzare applicazioni come i3 o di misurazione di questo tipo no posso rispondere adesso rispondo alla fine sicuramente sì adesso allora no per fare girare diciamo così il modello i3 non servono questi strumenti ma basta dare appunto la riconoscere la specie il numero dei pianti di quella specie e le dimensioni e quindi parametri biometrici diametro se abbiamo l'altezza e la location questi sono i parametri fondamentali e quello che io vi ho spiegato adesso cioè quindi questo là il misuratore della fotosintesi e anche il microscopio elettronico invece sono gli strumenti che sono stati utilizzati per fornire il database fisiologico a questo i3 quindi i3 è un software evidentemente un modello quindi fa delle stime ma si basa su delle misure scientifiche ok fantastico se se volete cioè se abbiamo concluso questa prima parte di condivisione insomma delle premesse eh alla base di questa di questa nostra area di di lavoro noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Varaldi speriamo che questa sia la prima tappa di un'interazione diciamo ricca tra noi e il vostro centro e da cui speriamo davvero di poter eh produrre ho visualizzato adesso una mi sembra di aver visto una domanda che diceva questo utilizzato anche per bambini e delle medie allora noi facciamo quando facciamo delle lezioni noi andiamo dalle medie appunto fino all'università e sì sono strumenti che sono ovviamente si usano meglio dalle superiori non alle medie ma noi li facciamo già utilizzare scaricabile sì è disponibile scaricabile online e quindi è uno strumento che si impara a lavorare diciamo così giocandoci poi è chiaro che non è completo in particolare per l'Italia e per l'Europa e quindi noi quasi quotidianamente siamo in contatto con coloro che aggiornano il software di i3 per fornire ulteriori indicazioni in modo che loro lo aggiornino sempre di più perché non hanno tutte le stazioni meteorologiche oppure di inquinanti dell'Italia ma vanno a prendere quelle che uno gli manda quindi noi stiamo cercando di aggiornarli continuamente con i dati dell'ARPA che abbiamo visto prima fornendo i dati dell'ARPA per a far sì che poi si possa selezionare se io voglio fare un'analisi di i3 a Modena posso selezionare effettivamente una centralina dell'ARPA e quindi avere veramente una stima basata sull'ambiente padano diciamo fantastico grazie mille speriamo veramente di poter contribuire a questo su questo tema e in specifica specificamente su questo su questo strumento attraverso questa attività didattica e le prossime in generale pensiamo che questo approccio di utilizzare appunto la citizen science o comunque l'intelligenza collettiva e lo sforzo collettivo applicato a sfide reali a problemi reali sia una chiave di lettura molto efficace anche a scopi educativi e didattici diciamo le scelte dell'apprendimento ce lo dimostrano che costruire delle sfide che abbiano una rilevanza e un impatto visibile rispetto all'ambiente che circonda appunto chi sta apprendendo ha un ritorno sul processo di apprendimento molto efficace e rilevante quindi siamo molto contenti di poter continuare su questo tema un piacere Sergio Giordano appunto il compito di illustrare le sfide appunto di attività didattiche che abbiamo costruito e sul quale appunto faremo un approfondimento adesso nei prossimi webinar e attraverso una pagina dedicata sul nostro sito e una classe online di Google Classroom che sarà presto attivata prego sì le sfide che vi proponiamo sono due in particolare la prima sfida riguarda passiamo direttamente alla prossima slide la questione di cui abbiamo già appena parlato cioè il problema dell'incredimento dell'aumento della CO2 e quindi l'obiettivo globale che abbiamo di cercare di ridurre questo gas serra attraverso appunto le piante per questa sfida ovviamente è importante capire molti degli aspetti di cui abbiamo parlato oggi ma nello specifico quello che dovremo utilizzare sono strumenti di mappatura fondamentalmente Giordano adesso spiegherà le competenze risultate e poi passo per passo cosa dovrete fare Perfetto grazie mille allora intanto rimaniamo un attimo sulla slide precedente troverete questa mappa questo framework fatto con C-Map Tools all'interno dei nostri dei nostri canali quindi sul sito lo troverete lo troverete nella nostra ambiente di classroom e perché abbiamo deciso di continuare a lavorare in questo modo intanto perché abbiamo aumentato l'interdisciplinarità quindi oltre alle basi di scienze ambientali e di geografia abbiamo aggiunto la competenza della lingua inglese di matematica la competenza della base di matematica delle competenze digitali che sono anch'esse interdisciplinari e abbiamo deciso di lavorare su quelle che sono alcune se non la maggior parte delle competenze chiave europee come le competenze sociali e civiche quindi i progetti di citizen science che vedremo sia in questa challenge sia nella prossima imparare ad imparare molto problem solving c'è da dire che abbiamo deciso di calcare un po' la mano su quello che è la competenza del problem solving perché abbiamo deciso di mantenere una certa libertà di azione all'interno delle nostre sfide e lo spirito di iniziativa e imprenditorialità continuiamo con la prossima slide come già diceva Sergio e anche Donatella dicevano avremo la Google Classroom di cui troverete il codice alla fine nella sitografia e le due sfide sono divise così intanto la prima parte la prima sfida che è quella di noi abbiamo definito di geografia ambientale sulla nitride carbonica oltre a sviluppare una mappa mentale utilizzando lo strumento di C-Map Tools che ci aiuta a ordinare a riordinare le nostre ipotesi perché abbiamo deciso proprio di lavorare inizialmente su quelle che sono le ipotesi che per i partecipanti evidenziano le connessioni fra i fattori ambientali antropogenici e quelli naturali e viceversa quindi sulle supposizioni ipotesi poi abbiamo messo a disposizione la creazione di un profilo intanto su OpenStreetMap Google Earth come vi dicevamo sono open ma non solo con la collaborazione con Esri ci ha portato ad avere una nostra pagina all'interno della quale potrete chiederci supporto per l'attivazione di un con due modalità intanto di un account per utilizzare ArcGIS Online che è specifico è un programma che non è gratis normalmente ma grazie a questa collaborazione possiamo fornire alle scuole per divulgare la cultura della georeferenziazione e della strumentazione per la georeferenziazione come anticipavo in due modi o tramite noi che faremo da da tutor quindi ci chiederete l'attivazione di un account provvisorio all'interno della nostra pagina oppure potrete seguire i link che sono stati inseriti all'interno delle diverse schede per partecipare a un progetto di divulgazione del GIS nelle scuole per gli account gratuiti promosso da Esri poi dovrete cercare all'interno di questi di questi software di georeferenziazione tramite anche delle parole chiave sui fattori che vi renderemo disponibili fattori ambientali fattori naturali dei layer quindi degli strati che permettano di andare a ricavare dei dati che possano verificare oppure smentire quelle che sono le vostre ipotesi iniziali partecipando al secondo webinar che sarà parte di questa diciamo pilone come diceva anche prima Donatella di questa serie di webinar andremo ad approfondire gli strumenti che avremo a disposizione quindi andremo anche a supportarvi nell'utilizzo degli strumenti o anche ad aumentare gli strumenti che potreste utilizzare all'interno di questa challenge prossima slide dovrete quindi creare una mappa GIS quindi una mappa georeferenziata per confermando meno le vostre ipotesi e andando anche ad aggiornare o comunque a ricreare quella che è una mappa concettuale o una mappa mentale da confrontare con quella che era la vostra mappa iniziale e verificare se ci sono stati dei cambiamenti di rispetto alle vostre ipotesi oppure se si è verificata una sovrapposizione bisognerà condividere sulla nostra pagina di Google Classroom il risultato della challenge e partecipando al terzo webinar riusciremo a interagire con chi ha partecipato quindi non solo con persone interessate all'argomento ma cercheremo di fare interagire gli utenti che hanno partecipato alla nostra challenge per far sì che si collabori per la creazione di un sistema di layer molto complesso data da questa partecipazione e premeremo anche chi sarà più collaborativo e avrà sviluppato una ipotesi che abbia dato un valore aggiunto alla nostra challenge prossima slide la seconda invece è una sfida che abbiamo voluto identificare come una sfida di matematica ambientale specifico le sfide noi le abbiamo progettate principalmente per le secondarie di primo grado e le secondarie di secondo grado andando tramite anche al supporto di insegnanti che hanno creato dei focus gruppo con noi a inserire come target principale per la sfida di geografia le scuole secondarie di secondo grado mentre per questa di matematica principalmente ma non è chiusa semplicemente alle secondarie di primo grado le secondarie di primo grado per l'appunto questa sfida invece è sul risparmio idrico in ambiente urbano come potete vedere trovate anche qui un framework che abbiamo rifatto con Cmap tools l'abbiamo ricreato per dare un certo ordine che troverete su google classroom e come materiale e le diverse competenze che abbiamo identificato all'interno della challenge continuiamo con la prossima slide in questo caso abbiamo cercato di di nuovo di utilizzare l'importante concetto della mappa mentale per evidenziare quelli che sono i passaggi nel framework di processo quindi formulare le ipotesi è la prima parte di qualsiasi ricerca scientifica il metodo scientifico storicamente porta a una analisi del vero un'osservazione ma anche a una progettazione dell'osservazione quindi sapere cosa osservare o sapere in che direzione andare permette di andare molto più in profondità all'interno di un argomento come funziona questa challenge nel particolare intanto abbiamo deciso di fare qualcosa che tutti noi a casa possiamo misurare cioè abbiamo deciso di sviluppare un computo settimanale annotando i volumi di acqua che vengono utilizzati nell'ambiente domestico e andare ad analizzare quali sono i costi per la persona costi economici e anche dal punto di vista ambientale per persona per famiglia per città e per regione questo ci permetterà di comprendere quali sono gli sprechi e le ipotesi di soluzione per questi sprechi all'interno della nostra quotidianità continuiamo con la prossima slide dopo che avremo diciamo sviluppato questa mappa mentale avremo iniziato a fare i calcoli vedrete nelle nostre classi e vedrete anche nella nostra challenge quali saranno i calcoli che vi chiederemo e quali saranno i consumi di acqua da analizzare bisognerà comprendere quali possono essere le soluzioni quindi bisognerà anche qui andare a creare un framework che possa essere una mappa concettuale un diagramma di flusso che ci portino a una possibile soluzione per attenuare quello che è il costo potenziale costo economico e l'attenuazione del costo sociale dell'utilizzo dell'acqua nelle nostre abitazioni una volta creata questa mappa mentale si condivideranno sia i dati sia le mappe mentali e partecipando al prossimo webinar scusate non al prossimo ma l'ultimo webinar andremo a interagire per fare una sorta di debate su quelle che sono le considerazioni che verranno ritenute e le ipotesi che verranno ritenute più interessanti e che possano portare a uno sviluppo o comunque a una conclusione della nostra challenge in maniera propositiva la prossima slide le prossime slide sono giusto un supporto a chi ha seguito il webinar ed è un buon supporto perché alcune delle slide purtroppo non siamo riusciti ad aprire per il colpo dei problemi tecnici all'inizio ma abbiamo messo una sitografia abbastanza ricca intanto sul ruolo delle piante nella società nella scienza dal punto di vista anche per gli esseri umani sulla biodiversità continuando abbiamo sempre andando verso il basso abbiamo messo dei siti con esempi di GIS quindi georeferenziazione molto interessanti ci sono sia quelli per la strumentazione come vedete poi continuando abbiamo inserito una sitografia sulla meteorologia che abbiamo affrontato poco in questo webinar ma che ci piacerebbe molto affrontare nel prossimo webinar e continuando potete vedere che abbiamo anche messo dei tutorial per la nostra strumentazione i tutorial li trovate sia qua su trovate il link sia qua nella sitografia li troverete linkati sulla nostra pagina li troverete linkati anche nell'ambiente di Google Classroom in più per ricordarvi che le nostre challenge si basano su una vostra partecipazione poiché più siamo a partecipare e più risultati si possono avere più sovrapposizioni si possono avere il codice dell'ambiente della Google Classroom che trovate in questo caso per poter entrare e detto questo io andrei verso le domande se ci sono delle domande sì Giordano io rimuoverei la condivisione dello schermo per ritornare in presenza grazie a tutti grazie a voi per quello che è stato fatto per gli spunti di discussione di oggi le domande alcune le abbiamo già affrontate durante il webinar altre sono abbastanza specifiche appunto sul ruolo delle piante rispetto sul ruolo la natura della costituzione insomma delle piante rispetto a loro impatto nella questa cattura delle polveri sottili e della CO2 mi chiedevo se appunto si potesse approfondire questo brevemente e se nel frattempo vengono altre domande altrimenti vista visto l'orario insomma oltre le 4 oltre al termine che c'eravamo dati rimanderei alla prossima alla prossima webinar quindi se voi avete altri spunti da approfondire rispetto anche a queste informazioni specifiche vi do la parola o altrimenti passiamo al prossimo webinar voglio solo profittare per ribadire brevemente le due tipologie di sfide una una mappa partecipativa tutti insieme i partecipanti hanno la possibilità di creare una mappa di condividere di sé come crearla insieme a noi insieme a voi stessi e l'altra invece è un foglio di calcolo partecipativo per capire come insieme si può con leggi di grandi numeri ridurre questo fenomeno gravissimo da un spreco d'acqua per cui l'Italia è purtroppo agli ultimi posti in Europa e l'acqua si sa è un elemento fondamentale per le piante rispondo solo a una domanda sulla challenge sì le ipotesi come anticipavo verranno fatte da chi partecipa e verranno verificate utilizzando i materiali che che vengono forniti da noi la strumentazione che vengono forniti da noi quindi vi lasciamo molta libertà sia nella fase iniziale che nella fase di sviluppo della challenge rispetto ai tempi questo è un percorso lungo di diverse settimane il calendario sarà pubblicato sulla pagina praticamente a fine giornata di oggi massimo della giornata di domani mattina si prevedono diverse settimane quindi le attività possono essere svolte lungo buona parte del mese di maggio quindi tutto per tutto questo mese e almeno le prime due settimane di maggio troverete comunque il calendario pubblicato insomma nelle prossime nelle prossime ore sulle nostre pagine ho visto una domanda forse su se Genere ha già fatto collaborazioni con le amministrazioni pubbliche sì io ho iniziato a lavorare con il comune di Bologna proprio con un progetto LIFE quindi un progetto europeo lavorando proprio su queste tematiche di ecosystem service e poi sono passata a Parma e poi sono passata ad... insomma ho fatto diversi con Pistoia adesso le amministrazioni comunali sono molto sensibili sul finalmente direi sulla importanza del verde urbano nelle città e per il benessere dei cittadini quindi le cose stanno migliorando di anno in anno fantastico grazie Rita c'è un'altra domanda per te ricordava la particolarità di esistenza di alcune piante a passo a gusto in grado di catturare polveri sottili in modo efficiente ovviamente tutte le piante hanno questa capacità ma tutte le piante hanno la capacità di assorbire l'energia carbonica e di intrappolare le polveri naturalmente c'è chi è più efficace o meno sicuramente gli alberi quindi le piante d'alto custo sono tra i più efficaci perché hanno la chenope più grande la chiamo più grande però per esempio da noi quello che abbiamo studiato appunto con il comune di Bologna frassi tigli aceri cerri ontani sono tutte ottime piante ma sono buone sono valide e sono da utilizzare quello che noi diciamo sempre quando parliamo con gli amministratori e con i progettisti del verde in contesto urbano è molto importante utilizzare piante sempreverdi e piante caducifogli perché durante l'inverno abbiamo le PM quindi abbiamo bisogno delle piante sempreverdi durante l'estate abbiamo lo zono e quindi abbiamo bisogno delle caducifogli ma soprattutto abbiamo bisogno anche degli arbusti dei cespugli che pur avvenendo una chioma più ridotta e quindi hanno una minore efficacia sono importanti perché crescono ad altezza d'uomo e quando noi andiamo nelle piste ciclabili bellissime ma passano le macchine e scaricano inquinanti proprio dove noi respiriamo capiamo che la pianta che è alta sì è efficace ma non può ripararci quindi un cespuglio come il viburno il lauro e la fotigna che sono sempreverdi sono ottime per compensare la parte del tronco dove non ci sono foglie dove è vuoto quindi sì noi diciamo sempre quando si fa progettazione del verde in una città rispettare la biodiversità quindi mettere qualsiasi tipo di pianta e rispettare naturalmente le caratteristiche delle piante mettere piante caducifogli piante sempreverdi e arbusti e fare una progettazione oculata perché dobbiamo guardare come sono da dove vengono i venti e quindi sapere chi dobbiamo protesere da che cosa e quindi non è solamente piantare alberi ma bisogna fare una progettazione fantastico due brevissimissime domande in chiusura poi salutiamo in generale tutte le domande tecniche per esempio su un esempio pratico che può essere utilizzato ai fini della challenge vi chiediamo di riversarle sulla classroom quelle che sono arrivate ovviamente in questo webinar a quelle rispondiamo e per tutte le altre per chi vedrà questo webinar in un secondo momento tutte le domande possono essere trasferite appunto nell'interazione che organizziamo dentro Google Classroom in particolare due domande molto puntuali ossia rispetto ai destinatari di queste sfide o di queste o sfide simili a queste se i destinatari possano essere anche i bambini della scuola dell'infanzia è una domanda molto puntuale su una raccolta di dati rispetto a un parco cittadino dove si monitora la quantità di acqua dispersa se questo possa essere oggetto della sfida in corso chiedo a Sergio per l'infanzia e a Giordano magari per l'esempio pratico sull'infanzia la domanda appunto se ci saranno dei webinar per la scienza per l'infanzia stiamo progettando considerando anche dei webinar su queste tematiche cioè la didattica e la sostenibilità ambientale proprio per i più piccoli e per far questo uno degli spunti che stiamo valutando è quello della permaculture la permacultura è una disciplina internazionale che permette di fare un'educazione pratica molto pratica basata praticamente quasi esclusivamente su aspetti learning by doing che copre anche diciamo della sostenibilità tutti gli aspetti della sostenibilità ambientale partendo dalla riconnessione proprio del ciclo del carbonio del compostaggio tutte le pietre miliari proprio della sostenibilità ambientale sicuramente restate connesse nei nostri spazi pubblici e vedrete quando quando saremo pronti con questo nuovo webinar giordano ti lascio l'ultima parola che onore dunque per quanto riguarda l'utilizzo di dati che non sono su diciamo sulla challenge allora dal punto di vista della challenge è scomodo poter fare riferimento a dati che non hanno a che fare con le stesse misurazioni dal punto di vista invece dell'analisi ambientale vi chiediamo in ogni caso di condividerli perché ci permette comunque di avere un database più avanzato e più aggiornato anche su misurazioni che non sono le stesse che abbiamo chiesto a noi quindi iniziamo da qui i dati però condivideteceli perché siamo interessati anche a questo grazie concludo fantastico grazie a tutti grazie in particolare a Rita Varaldi che ha dedicato il suo tempo a questo webinar grazie ancora e grazie per quello che fate grazie a Sergio Giordano a tutti un grande saluto ci vediamo ai prossimi webinar a presto ciao a tutti grazie grazie a tutti